Se pensiamo che 5 giorni dopo il delitto è passata l'impresa di pulizie, addirittura tre settimane dopo sono rientrati i dipendenti dell'AIAG I dipendenti dell'AIAG sono rientrati addirittura a lavorare Una delle cose assurde è che il magistrato ha dissequestrato l'ufficio il sabato ed è stato riconsegnato, l'omicidio è stato commesso martedì ed è stato dissequestrato il sabato e il lunedì mattina un'impresa di pulizie è entrata dentro e poi alcuni mesi dopo addirittura ha traslocato l'AIAG quindi ha cambiato sede mobili e quant'altro, poteva essere utile all'indagine ma addirittura c'è un'intervista video fatta al portiere a Vanagore in cui si vede sullo sfondo, lui stava sulle scale, giusto? sullo sfondo si vede una macchia di sangue nitida sul muro e alcuni giorni dopo la macchia di sangue scompare e al posto della macchia c'è un enorme buco quindi insomma abbastanza particolare inoltre inoltre un'altra leggerezza è che non è stata presa la temperatura corporea o meglio è stata presa ma è stata vanificata per il semplice motivo che non è stato fatto il confronto con la temperatura ambientale sia interna degli uffici che esterna questo è fondamentale poi per stabilire l'orario della morte di Simonetta perché noi adesso ci rifacciamo l'orario di Simonetta in base ad alcuni parametri che potrebbero essere chiaramente smontati e sono il fatto che il computer ha iniziato a lavorare quindi è stato acceso alle 16.37 ha una eventuale, io dico eventuale, telefonata intorno alle 17.15 che Simonetta avrebbe fatto a Luigia Berrettini dell'AIAG per chiedere consiglio per quanto riguarda l'immissione di alcuni dati al computer e una telefonata di risposta da parte della Berrettini intorno alle 17.35 alle 18.30 si doveva poi sentire Simonetta Cesaroni con Volponi col datore di lavoro, cosa che non è avvenuta quindi abbiamo una forchetta che va dalle 16.37, diciamo 16.40 fino alla 17.40 questo è l'asso di tempo in cui dovrebbe essere avvenuto l'omicidio altra cosa, l'arma del delitto in realtà non è mai stata trovata noi sentiamo spesso il tagliacarte perché effettivamente dalle ferite, dall'autopsia si evince che è stato un tagliacarte e in uno studio, in un ufficio c'erano due tagliacarte però puliti, lavati questo è molto importante perché non stabilisce con esattezza che l'arma del delitto è stata presa dallo studio, dall'ufficio ma era possibile anche il fatto che l'omicida portava con sé l'arma un altro tagliacarte magari era una persona che frequentava l'ambiente AIAG, l'ufficio e sapeva che comunque in un ufficio ci sono dei tagliacarte tutto qui sposta il problema cioè perché perché si passa da un omicidio volontario quindi un omicidio di impulso a un omicidio premeditato quindi insomma è molto importante da questo punto di vista grazie a tutti grazie a tutti